Da questo pomeriggio la sala stampa del Città degli Ulivi porterà per sempre il nome di Ciccio Marrone che proprio qui da un microfono cantava le geste degli eroi neroverdi. Ma scolpiti nel marmo della memoria nel cuore di chi gli ha voluto bene saranno per sempre il volto, la simpatia e la bontà di questo caro ragazzo. Sul prato poi le oncelli come sospinti da una voce d'angelo hanno fatto un sol boccone di una versa non propriamente feroce. Mister Loseto punta sulla sicurezza possente ed euclidea di Biasson dietro col guardingo Colella, capece a giostrarne al mezzo con l'architetto Montinaro, il fantasista Taurino a lampeggiare per l'attanzio e triarico. De Stefano schiera i suoi con Cassandro e Ziello a far da malcerta diga, diai a pungere in ferace sulla fascia Messina e Faella ad imperversare davanti. Si parte e da strazione fatta per un sinistraccio di Della Corte a forrar le nuvole al secondo minuto sarà un imperioso monologo bitontino. Vantaggio già al nono lancio illuminante per Taurino sportellata energica di Cassandro e rigore. Dal dischetto lattanzio fredda Papa. 60 secondi il capitano spreca da posizione favorevole un bel con Piarulli. Minuto 24 mancino fulminante di Piarulli, l'estremo campano neutralizza in due tempi. Poco prima della mezza punizione luciferina di triarico, il portiere respinge. Al 32esimo fallo laterale intelligente di Montinaro, Ricchi serve ai triarico che scarica debolmente fra le braccia di Papa. Nella ripresa la variazione sul tema e l'improvviso e imprevedibile pareggio ospite. Al quinto triarico vendemmia Faella, Messina spiazza dagli 11 metri di Lucio. Ruggiscono dun subito i padroni di casa. Al dodicesimo stupenda azione corale del bitonto, sfera morbida di Taurino per Tiarico, tocco prezioso per Piarulli, invitante assist per lattanzio che batte imparabilmente Papa. Sdentata reazione aversana con un tiro di Faella che carezza l'erba e nulla più al diciassettesimo. Tre uscite spericolate e avventurose di pugno di Papa fra il diciottesimo e il ventunesimo per disinnescare il pericoloso attacco di casa. Mistero al minuto 24, rovesciata acrobatica di triarico, incredibile parata di Cassandro nel cuore dell'area, il signor Bozzetto da Bergamo resta silente e pilatesco. Ultima nota sul tabellino, a otto dal termine, doppia munizione e rosso per un inutilmente nervoso chianese, ospiti in dieci, ancora più in belli. Gli uomini del patron Rossiello restano in corsa per i play-off e così sanno già che domenica a Casarano sarà uno spareggio decisivo.